Noi un sorriso e gli autismi grazie a Caporicci. Oggi un pranzo con tanti genitori, bambini, ragazzi e anche adulti autistici. Come mai questi incontri? Partiamo dal presupposto che noi questi incontri li facciamo abbastanza spesso fortunatamente, perché è qualcosa che comunque ci arricchisce. Ci fa stare bene, fa stare bene i bambini, i ragazzi e tutto, perché vivono in una situazione, in una realtà nella quale noi ci auguriamo che vivranno sempre. Perché stiamo insieme, ci divertiamo, non ci sono differenze, non c'è nessun tipo di vincolo e di pericolo per loro. Loro sono liberi di fare ciò che vogliono, sono liberi di fare i bambini, i ragazzi. Gli viene spontaneo fare qualsiasi cosa, saltare, giocare, urlare, anche perché i nostri bambini sono bambini, sono ragazzi che devono fare questo. Quindi di conseguenza noi molto spesso ci sentiamo private di queste cose quando stiamo negli ambienti comuni. Qui siamo in famiglia, noi siamo una grande famiglia, noi non abbiamo nessun ruolo di appartenenza, ma siamo una grande famiglia e ci riuniamo proprio per questi motivi. Perché stiamo bene, parliamo insieme, stiamo al ristorante. Le criticità espresse dei genitori riguardo alla condizione dell'autismo? Allora guarda, io ho un bambino che è autistico e ha dieci anni. Ci stanno tantissimissime differenti, da bambino a bambino, da ragazzo a ragazzo. Quindi io lo dico sempre, io parlo dell'autismo di mio figlio, che fortunatamente, diciamo che è in una forma abbastanza lieve. A me non era verbale, cioè o meglio, era verbale però non parlava, che è qualcosa che un po' si contraddistingue. Però in effetti è così, perché lui quando vuole una cosa me la indica e tutto, però non si esprimeva verbalmente, adesso lo fa. C'erano molti bambini che ancora non riescono a fare questo. C'è il discorso che comunque per i genitori ci sono tantissime fasi nell'autismo, anche per noi, perché poi noi diventiamo un po' autistici. Il mio figlio cammino per strada, adesso lo salutano tutti, lo amano tutti, perché lui è spontaneo, lui è così. Quindi non ha bisogno di nulla, non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di stare composto, cosa che adesso mi è arrivata. Adesso io capisco tante sfaccettature dell'autismo, sempre relative a mio figlio, però ci sono bambini e mamme che comunque ancora non si sono abituate a queste cose. E ne soffrono, perché comunque il mondo ti crea sofferenze. Parliamoci chiaramente, nella scuola ci sono tantissimi ostacoli. Se io porto mio figlio a scuola io devo star serena a casa, devo essere sicura che mio figlio a scuola venga seguito, che venga accolto in maniera positiva, che gli altri bambini capiscano che il mio è un bambino con il quale loro possono giocare. Magari in modo diverso, si devono relazionare diversamente con lui, ma lui è un bambino. E quello è importante, l'informazione, cioè bisogna informare tutti, perché qualsiasi persona ha paura di una cosa che non conosce. E quindi di conseguenza ti guarda in maniera particolare e sono cose che fanno male ai genitori. Se tu hai un bambino autistico che salta continuamente o comunque urla, ovviamente se stai in un ristorante comune, te lo guardano in continuazione, parlano fra di loro e tu ti senti a disagio. Ed è una cosa brutta perché la mamma soffre, il papà soffre.